Ciao, sono Fabrizia del gruppo GAM di San Giovanni Lupatotto e sono qui per presentarvi la gita, la nostra escursione a Cimaportule che si terrà il 29 giugno con partenza alle 6.30 da San Giovanni Lupatotto nel piazzale antistante alle poste. La partenza è a quell'ora, cerchiamo di essere puntuali, arriveremo alla Malga dove qui faremo colazione e prenderemo i panini per l'escursione. Poi arriveremo fino a Bocchetta e Portule, da qui potremo mirare uno splendido panorama e vedere le cisterne che sono state costruite nel corso della Grande Guerra. Poi prenderemo un sentiero con dei mughi semplici e con una salita molto dolce per arrivare brevemente a Cimaportule dove siamo in questo momento sperando di poter godere un ottimo panorama visto che potremo vedere tante cime dell'altopiano di Asiago fino ad arrivare alla vicina Val Sugana e vedremo anche le indicazioni per Cima 12. Proseguiremo poi alla volta di Cima Larici seguendo un piccolo sentiero di mughi per poi raggiungere il rifugio Malga Larici dove finisce il nostro Giro d'Anello. Vi aspettiamo numerosi, a presto!